Ciao a tutti, domani sera ci sarà la trasmissione The Beat Team, la giunta, sul canale 15 del digitale terrestre Umbria più Teleterni e all'interno di questa trasmissione i due conduttori che sono Gianluca Nasi e la conduttrice ternana Francesca Totori si occuperanno di presentare il Beat Team, cioè il team di Stefano Bandecchi con tutta la giunta comunale quindi ci faranno scoprire ai cittadini ternani chi sono i loro rappresentanti in comune e quali sono poi i loro progetti, il loro programma quali sono le loro azioni, quali sono le linee di mandato per i cinque anni della prima amministrazione Bandecchi per cui è un'ottima opportunità, è un ottimo modo per conoscere da cittadini i propri amministratori e poi alla conduzione ci sono due giornalisti impeccabili, due conduttori impeccabili per cui non vi resta altro che seguire domani sera Sombria più The Beat Team